quante volte guardandoti allo specchio hai detto so proprio un birrocchio il tuo fondoschiena arzumia al paraurti de una grande punto quanti tentativi inutili per ritrovare il tuo peso forma ideale senza alcun risultato hai fatto tanti addominali ma l'unico modo per vedere la tartaruga è ghia allo zoo c'hai un atto alle natte come brunetta gioca a pallacanestro l'unico risultato ottenuto è un gorbo che te spacchi da oggi puoi dire basta da oggi c'è fargio sì amici fargio è l'unico strumento che rassoda le parti lente del tuo corpo senza sbillentare le giunture grazie al brevettato movimento roto fargiatorio potrai finalmente rassodare anche il tuo quadripetto nuovo fargio è consigliato anche dal cardiovegente dottor moriovine con fargio i due problemi di linea sono finiti solo per oggi fargio è tuo a soli 57 euro e 80 con appena 16 ore al giorno di fargio nel giro di qualche anno anche tu potrai avere il fisico statuario che hai tanto sognato esattamente come i modelli del nostro spot guardate come gioconda la nostra valentina mentre si allena con fargio i vecchi esercizi di una volta ormai sorpassati faranno parte solo dei lontani ricordi fargio è l'unico nel suo genere che dispone di tre velocità normale veloce e a refe dubbio in più compreso nel prezzo riceverai la coa una rodatrice con pratico astuccio e un elegante porta fazzoletti e se sarai tra le prime ventordici telefonate per te in omaggio una utilissima mieti trebbiatrice livellante cosa aspetti chiama subito fargio è la soluzione definitiva contro il grasso e l'erba america attenzione in alcuni stati americani l'uso e detenzione di fargio è reato federale un uso eccessivo di fargio può causare temporanea perdita di vista e tatto usare con cautela il movimento roto fargiatorio ha causato più morti dell'ebola in alcuni casi può provocare un eccessivo accrescimento del piacere sessuale non è un presidio agricolo chirurgico se il grasso persiste fate d'un culo